Benvenuti a tutti il convegno di questo pomeriggio si intitola Sibilla Leramo e il suo tempo per me è una gioia presentare questo convegno ho scoperto Sibilla Leramo negli anni 70 il movimento femminista di quegli anni riportò alla luce moltissime scrittrici, donne che erano state dimenticate dalla storiografia ufficiale una donna è stata per me e per le donne di quel periodo una scoperta folgorante Sibilla Leramo ha gettato le basi per la conquista dello spazio letterario delle donne la sua rottura con gli schemi asfissianti di una società chiamiamola così patriarcale ha liberato il suo genio artistico senza placare però la fonte delle sue angosce delle sue irrepietezze Civitanova è lo spazio prima incantato e poi opprimente asfissiante in cui si compie l'arco della sua adolescenza fino alla prima maturità è stata qui circa 14 anni tra i 12 e i 24 anni quindi Civitanova è stata anche il luogo della sua formazione culturale i relatori molto importanti che abbiamo qui oggi veramente eccezionali tracceranno un ritratto il suo ritratto approfondiranno la relazione artistica e umana con il poeta Dino Campana e individueranno il suo posto il suo ruolo nella scrittura e nelle scritture al femminile tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento questo convegno è stato organizzato da Aldo Caporaletti che in passato ha presieduto la Biblioteca Comunale ha organizzato più di 70 convegni ha collaborato con università scuole, case editrici, riviste ha curato anche la pubblicazione di diversi libri e nel 2001 con la partecipazione di Bruna Conti è maggiore studiosa di Sibilla tra le maggiori studiosi di Sibilla e è Ercole Isori direttore dell'Istituto di Storia e Economia all'Università di Accona altro collaboratore è Cesare Censi che si interessa di storia locale e collabora a riviste e giornali ha pubblicato una biografia di Umberto Cagli e la vita e i viaggi di Padre Serafino da Civitanova che è un frate che è andato fuori in Cino in un momento di parte oggi noi ringraziamo soprattutto l'organizzazione di Cartacanta Giovanni Palmini che è qui e poi ci darà il suo saluto e ringraziamo soprattutto il comune di Vicitanova qui rappresentato da Cristina Volzicco che è consigliere comunale delegato alle pari opportunità la ringraziamo molto che è venuta nonostante il suo stato molto interessante e poi in apertura in apertura del convegno con mio omaggio a Sibilla Leramo Paola Giorgi che è una cosa eccezionale e che ci fa molto piacere Paola Giorgi è vicepresidente del Consiglio regionale delle Marche ma è anche un'attrice di teatro e quindi è responsabile organizzativa del teatro gentile di Fabriano ma anche ha avuto la responsabilità di altri teatri quindi è una persona veramente appassionata di questo ambito è una donna appassionata sia di politica che di teatro secondo me è una voce moderna che sa spaziare dal reale all'immaginario e quindi è una... la ringraziamo molto di essere qui poi avremo altri... i relatori ve li presenterò man mano che sarà il loro turno per parlare per fare le loro relazioni quindi adesso do la parola a Giovanni Palmini che è dell'organizzazione Carta Canta ma io pochissimi minuti se si sente male però per i relatori parlo io ho una voce un po' potenta anche se passa possiamo anche prendere quello e giocarlo diciamo io sono uno dei collaboratori di Carta Canta voglio dire che siamo molto contenti di avere qui sia la mostra sia questo momento di approfondimento su Sibilla Leramo informiamo i cerchi di iniziatori che ora intera la conferenza inceneritore una valenza che decidirà la conferenza intervista come vedete Carta Canta entriamo un po' Carta Canta diciamo che Carta Canta è anche un po' questo abbiamo diverse presentazioni di libri di autori di movimenti che partecipano a Carta Canta perché la ritengono diciamo un luogo in cui appunto poter discutere poter confrontarsi poter presentare le loro opere stamattina girando assieme alla vicepresidente del consiglio la signora Giorgi mi diceva bravi che avete fatto un'iniziativa di approfondimento su Sibilla Leramo ecco voglio dire che questa è vero che non se ne fanno molte in Italia e abbiamo rilevato questo dato qui c'è Fucchi anche qualche anno or sono in cui a Carta Canta abbiamo fatto la commemorazione del centenario della pubblicazione di una donna e anche lì dicevamo non se ne fanno molte diciamo di iniziative però a Carta Canta non soltanto perché casualmente non è che è cresciuta intellettualmente casualmente però Sibilla Leramo è un momento importante diciamo anche di Civitanova Marche ci piace ci piace dire che è un momento importante anche delle Marche ecco ci piace dire che è un momento importante anche delle Marche e quindi diciamo noi promuoviamo questi approfondimenti ovviamente ci è stato detto tutto molto diciamo su Sibilla Leramo è stato un personaggio che si è incrociato diciamo così con tutta la storia italiana Prezzolini poi c'è Nitte Iotti qui vedo molte donne quindi non dico Fogliatti dico Nitte Iotti quindi noi ringraziamo tutti voi ringraziamo gli organizzatori ringraziamo l'associazione Antonio Gramsci questa mostra che è fatta tra nuova associazione e il centro studio di Civitanovese non c'entra Luca sbagliato verrà data comunque ai licei di Civitanova Marche perché appunto avendola nei loro istituti possano intanto conoscere e quindi poi possibilmente approfondire questa figura straordinaria io ho concluso ti rito il microfono è un stato interessante però ce la faccio buonasera a tutti è normale poi il secondo figlio non ci facciamo più caso ci siamo abituati buonasera a tutti sono Cristina Volzic consigliere comunale incaricata alle varie opportunità porto i saluti dell'amministrazione e lo faccio con grande veramente con grande gioia e grande soddisfazione perché perché questo è stato un anno particolare per la città e questo anche per un rinnovato interesse nella donna oggi siamo qui per parlare di Sibilla Leramo e ringrazio in particolar modo Aldo Caporeletti che ha voluto organizzare questa mostra così interessante e un convegno soprattutto il convegno con i relatori così qualificati come già la professoressa insomma vi ha anticipato e poi un anno particolare perché è stato l'anno della mostra su dei macchiaioni modigliani che ancora per dieci giorni sarà aperta ed è stato l'anno in cui finalmente si ritorna a parlare della donna con l'incarico le varie opportunità ma soprattutto con l'apertura dello sportello in forma donna che forse come sapete è attivo da circa un mese e che vuole essere proprio un nuovo un punto di riferimento nuovo nei confronti delle esigenze della donna un momento d'accoglienza per quelle che sono i suoi interessi e quindi veramente un rinnovato interesse da parte dell'amministrazione finalmente c'è e insomma io non credo che poi da qui in avanti si potrà affermare quindi crescerà e insomma anche io ne sono la mia figura sicuramente ne è testimone lascio la parola alla professore al nostro vicepresidente del consiglio regionale la signora Giorgi e mi scuso fin da subito perché per un impegno familiare devo scappare a breve vi ringrazio ringrazio gli organizzatori di Carta Canta e un grande invoglio per tutti grazie buonasera a tutti innanzitutto grazie per l'invito e un ringraziamento naturalmente va a Carta Canta e agli organizzatori di questo convegno un ringraziamento va anche a voi qui presenti siamo in uno spazio che penso che all'interno di Carta Canta possa essere definito lo spazio Sibilla Leramo con questa mostra curata dalla dottoressa Morino una mostra curata insieme al centro studi Civitano Mesi che ci racconta anche la storia di Sibilla Leramo in questo contesto stasera partecipiamo a questo importante convegno sulla figura di Sibilla Leramo l'Assemblea Legislativa delle Marche che rappresento e della quale vi porto il saluto partecipa quest'anno in maniera convinta e anche pesante diciamo a Carta Canta perché Carta Canta è uno spazio espositivo molto importante è un viaggio nel tempo nello spazio ristretto di uno stand o comunque di un padiglione di una fiera e questo spazio profondo ampio dedicato alla figura di Sibilla Leramo ha per noi una profonda importanza ci ricordava prima la consigliera comunale qui di Civitanova l'importanza anche delle donne nelle istituzioni e mi permetto quindi di evidenziare che a rappresentare le istituzioni finalmente questa sera ci sono due donne e questo penso che sia un elemento importante e speriamo significativo io ho l'onore di aprire questo questo convegno recitando una poesia una poesia di Giosuè Carducci Piemonte che ha un significato nella vita di Sibilla Leramo che poi credo verrà esplicitato durante il convegno grazie Allora si sente? Provi a parlare Allora torno a proporre un'iniziativa Sibilla Leramo a distanza di quasi un decennio nell'importante ricorrenza del cinquantenario della sua morte ricordo già lo faceva la professoressa Venanzoni il convegno del 2001 per i licei sul romanzo Una donna e la nascita dell'industria Civitanova con relatori Bruna Conti e il professore Ercole Sori dell'Università di Ancona e dato che oggi parliamo del poeta ricordo anche l'incontro del 2002 sempre per i licei su Campana posto in confronto con Nice con relatori professori Marco Antonio Bazzocchi e Giorgio Penso nel cinquantesimo anniversario della morte compiremo un percorso arridroso attraverso tre passaggi fondamentali dell'opera dell'Aleramo nell'arco di più di oltre mezzo secolo inizieremo con il diario di una donna 1945-60 relatrice la dottoressa Miriam Tevisa dell'Università La Sapienza di Roma con letture dell'attrice Francesca Rossi Brunori proseguiremo con l'epistolario Campana Le Ramo 1916-1918 la storia più importante di Sibilla relatore il professor Gianni Turchetta dell'Università Statale di Milano un noto studioso campaniano concluderemo con il romanzo Una Donna del 1906 e la scrittura femminile fra 8 e 900 relatrice la professoressa Marina Zancan sempre dell'Università di Roma La Sapienza che è una delle studiosi più autorevoli dell'Aleramo in apertura una dedica a Sibilla Lode Piemonte del Carducci da cui come ci dice l'Aleramo stessa deriva il cognome recitata da Paola Giorgi attrice professionista vicepresidente del Consiglio regionale che ringrazio vivamente per la sua presenza ringrazio l'assessore Fabrizio Cerabiga che ha accolto il progetto e ritenuto importante che Civitanova ricordasse l'Aleramo così come gli organizzatori della rassegna carta canta ringrazio le relatrici professoressa Zancan e dottoressa Trevisa per la costese disponibilità e l'attrice Rossi Brunori un sentito grazie al professor Gianni Turchetta che non lo sapete ma ha rinviato un premio letterario che presiede per partecipare al nostro convegno grazie a Cesare Censi mio collaboratore da un ventennio e alla professoressa Anna Maria Venanzoni docente nei licei torinesi e civitanovesi che presenta l'incontro temeva Sibilla Leramo nel diario di una donna di essere condannata a sparire ricordandola dopo 50 anni dimostriamo che la sua voce è ancora viva le iniziative proseguiranno nel marzo del 2001 con la rappresentazione di un testo dedicato a Sibilla che credo sia una novità assoluta per Civitanova Marche grazie quindi partiamo con la lettura di Piemonte di Giosuè Carducci di Giosuè Carducci Piemonte sulle dentate scintillanti vette salta il camoscio tuona la valanga dai ghiacci in mani rotolando per le selve scroscianti ma dai silenzi dell'effuso azzurro esce nel sole l'aquila e distende in tarde ruote di gradanti il nero volo solenne salve Piemonte a te con melodia mesta da lungi risonante come gli epici canti del tuo popolo bravo scendono i fiumi scendono pieni rapidi gagliardi come duecento battaglioni e a valle cerca alle deste a ragionare di gloria ville cittadi la vecchia osta di Cesare e mura ammantellata che nel varco alpino eleva sopra i barbari manieri l'arco di Augusto ivrea la bella che le rosse torri specchia sognando alla cerro e la dora nel largo seno fosca intorno e l'ombra di re arduino biella biella tra il monte e il verdeggiar dei piani lieta guardando all'ubere con valle carmi ed aratri e all'opera fumanti camini ostenta cuneo possente e paziente e al vago declivo il dolce mondo viridente e l'esultante di castella e vigne suol dall'eramo e da superga nel festante coro delle grandi alpi la regal torino incoronata di vittoria ed asti repubblicana fiere di strage gotica e delira di federico dal sonante fiume ella o piemonte ti donava il carme nuovo dal fieri venne quel grande come il grande augello ondebbe nome e all'umile paese sopra volando fulvo irrequieto italia italia e gli gridava di sueti orecchi e a pigri cuori agli animi giacenti italia italia risponde all'urne d'arguà e ravenna e sotto il volo scricchiolaron l'ossa sei ricercanti lungo il cimitero della fatal penisola vestirsi d'ira e di ferro italia italia e il popolo dei morti surse cantando a chieder la guerra e un re alla morte nel pallor del viso sacro e nel cuore trasse la spada o anno dei portenti o primavera della patria o giorni ultimi giorni del fiorente maggio o trionfante suon della prima italica vittoria che mi percosse il cuor fanciullo un dio vate d'italia la stagion più bella in grigie chioma oggi ti canto o re dei miei verdanni re per tanti anni bestemmiato e pianto che via passasti con la spada in pugno e il cilicio al cristian petto italo amleto sotto il ferro e il fuoco del piemonte sotto di cuneo il nervo e l'impeto da osta sparve il nemico languido il tuon dell'ultimo cannone dietro la fuga austriaca moria il re a cavallo discendeva contro il sol cadente e gli accorrenti cavalieri in mezzo di fumo e polve di vittorie allegri trasse ed un foglio dispiegato disse resa peschiera o qual dai petti memori degli avi alte ondeggiande le sabaude insegne surse fremente un solo grido viva il re d'italia arse di gloria rossa nel tramonto l'ampia distesa del lombardo piano palpitò il lago di virgilio come velo di sposa che s'apre al bacio del promesso amore pallido dritto sull'arcione in moto gli occhi fissava il re vedeva l'ombra del trocadero e lo aspettava la brumal annovala e a tristi errori meta ultima o porto o sole cheta in mezzo dei castagni villa del d'oro che infaccia il grande atlantico suonante ai lati al fiume fresco di camerie e albergò nella indifferente calma tanto dolore sfacesi e nel crepuscolo dei sensi tra le due vite al re davanti corse una miranda visione d'inizia il marinaro biondo che dal gianicolo spronava contro l'oltaggio gallico d'intorno splendeagli fiamma di piropo al sole l'italo sangue sugli occhi spenti scese il re una stilla lenta errò l'ombra d'un sorriso allora venne dall'alto un vol di spiriti e cinse del re la morte innanzi a tutti o nobile piemonte quei che a sfatteria dorme in alessandria diea laure primo il tricolor santorre di santa rosa e tutti insieme a dio scortaron l'alma di carlo alberto eccoti il re signore che ne disperse il re che ne percosse ora o signore anche egli è morto come noi morimmo dio per l'italia rendine la patria ai morti ai vivi per fumante sangue da tutti i campi per il dolore che le reggia guaglia le capanne per la gloria dio che fu negli anni per il martirio dio che ne è l'ora a quella polve eroica fremente a quella luce angelica esultante rendi la patria dio rendi l'italia agli italiani ed ora ed ora Miriam Tremisan parlerà ci farà un ritratto di Sibilla attraverso il diario di una donna Miriam Tremisan è dottore di ricerca in storia delle scritture femminili si occupa di informatica applicata agli studi letterari scusate di letteratura resistenziale di scrittura teobiografica con lavori in particolare incentrati su Sibilla Leramo Luigi Pirandello Giovanna Zangrandi fa parte di ricerche nazionali e internazionali coordinati dalla professoressa Marina Zancà nel cui ambito ha realizzato la stesura dell'inventario del fondo personale di Giovanna Zangrandi e sta analizzando i rapporti epistolari di Sibilla Leramo con donne emancipazioniste di fine ottocento e scrittrici del novecento ha insegnato anche informatica umanistica presso l'università degli studi di Roma la sapienza ed è parte del CRILET cioè il centro ricerche informatica e letteratura presso il dipartimento di italianistica dell'università di Roma la sapienza la cui direzione è stata prima del professor Gigliotti ed ora della professoressa Zancà è un intervento particolare perché l'attrice leggerà dei brani per cui pensavamo di contemporaneamente alcuni brani tratti dai diari verranno letti dall'attrice Francesca Rossi Brunori ci siamo incontrate prima le notizie è un'attrice che si occupa di teatro classico che ha lavorato nei nostri teatri durante questi ultimi due anni viene da Milano ma attualmente è una nostra diciamo concittadina bene spero mi sentiate ho l'onore ho l'onore di aprire questo convegno seguita da nomi molto più autorevoli del mio ma spero di darvi un quadro iniziale introduttivo di questa scrittrice che cerchiamo di commemorare dopo 50 anni dalla sua morte nel tentativo da lei tanto desiderato di salvarla dall'oblio come dicevamo giustamente in apertura Sibilla Leramo è una scrittrice molto interessante perché ha attraversato i generi letterari offrendoci una modalità di scrittura al di là di ogni tradizione al di là di ogni canone se noi velocemente scorriamo la sua biografia e credo che questa mostra ce lo possa illustrare perfettamente tutte le sue opere oscillano nei generi alternando volumi di poesie a prose a raccolte di prose a romanzi romanzi epistolari romanzi autobiografici romanzi in terza persona poemetti novella una novella come trasfigurazione e verso la fine troviamo una serie di pubblicazioni diaristiche dico verso la fine perché in realtà la scelta di questo mio intervento che mi è stato offerto dal titolo non l'ho non l'ho deciso io ma mi è stato proposto è tratto da uno dei tre diari che noi possiamo trovare di Sibilla de Aramo che è Diario di una donna in realtà per parlare dei diari di Sibilla bisogna fare un accenno a quella che è la sua scrittura diaristica e la storia editoriale dei suoi diari Sibilla de Aramo inizia a scrivere diari negli anni 40 inizia a scrivere in particolare la prima datazione 3 novembre 1940 quando viveva a Capri con Matacotta l'ultimo grande amore della sua vita ed era in preda ad una crisi esistenziale legata a un sentirsi incapace di proseguire la sua attività creativa sentiva spenta in sé la rena poetica e questo ovviamente per una donna che si considerava poetessa era un dramma difficilmente superabile Matacotta le suggerisce di avviare una nuova modalità di scrittura quella diaristica nella speranza che attraverso la scrittura del diario lei potesse recuperare la creatività che sentiva di avervi avuto e quindi iniziamo ad avere una quantità di pagine di diario che lei verga a partire dagli anni 40 fino a pochi giorni prima della sua morte quindi in pratica la scrittura diaristica attraversa l'ultimo ventennio della biografia di Sibilla Lerano la scrittura diaristica è un genere a me molto caro io amo studiare in particolar modo negli archivi letterari amo indagare la scrittura privata scrittura privata che come sapete si può esplicitare in forme diverse dal diario alla scrittura epistolare di cui parleremo nell'intervento successivo al mio e nella scrittura diaristica scusate è complicatissimo parlare con questa posizione è veramente folle che sto urlando allora nella scrittura diaristica la caratteristica principale è che essendo proprio una scrittura privata l'io scrivente si rivolge a se stesso attraverso la pratica scrittoria quindi l'interlocutore del diario è colui che scrive e solo che lei poi deve leggere e riesce perfetto così va meglio si sta urlando una disperata va meglio quindi dicevo la caratteristica del diario della scrittura diaristica la caratteristica del diario quindi della scrittura privata è che teoricamente non è rivolta al pubblico dico teoricamente perché quando noi parliamo di diari di scrittori o come diremo poi con il professor Turchetta quando si parla di rapporti epistolari tra delle figure eminenti nel panorama letterario o culturale in senso lato è abbastanza implicito che colui che scrive sa che probabilmente qualcun altro dopo la sua morte sarà interessato alle carte che scrive quindi non sappiamo mai quanto ci sia di realmente diretto esclusivamente alla sfera privata e quanto invece nella scrittura sia rivolto comunque a un interlocutore altro che probabilmente prima o poi leggerà le carte che vengono vergate giorno dopo giorno quindi nel caso di Sibilla Leramo questa peculiarità della scrittura privata di uno scrittore che sconfina nell'ambito pubblico e privato è esplicitata dal fatto che lei già in vita inizia a destinare alla pubblicazione i propri diari nel diario di una donna quello di cui vi devo parlare oggi Sibilla ha nota proprio nella prima annata nel 45 che è uscito una raccolta di alcune delle pagine del diario che lei aveva scritto nel quinquennio precedente quindi nel periodo 40-44 ad opera dell'editore Tuminelli e questa raccolta dal titolo appunto dal mio diario lei ci dice che circa la metà delle pagine che lei aveva scritto sono state poi destinate alla pubblicazione esce appunto l'anno dopo quindi le carte 40-44 verranno pubblicate nel 45 stesso destino di pubblicazione lei stessa decide di offrirlo ai diari che gradualmente continuerà a scrivere negli anni e noi troviamo annotato nelle pagine diaristiche la storia editoriale delle sue scritture private perché già dal 43 iniziamo a capire che il suo amico il Giacomo dei Benedetti che lei chiama affettuosamente Giacomino le suggerisce di prendere contatti con qualche editore affinché il suo diario venga pubblicato postumo quest'editore dapprima lei spera sia in Audi dopo il tentativo fallito di contatto con i Audi Paglietta e Toriatti con il quale lei era entrata in stretto rapporto di amicizia e di collaborazione la propongono a Feltrinelli e quindi lei già in vita sa che quando sarà morta le pagine dei suoi diari verranno pubblicati da Feltrinelli in cambio di un vitalizio che lei annualmente riceve e in cambio del trasferimento delle sue carte che ogni anno a fine annata vengono chiuse in un pacco e portate in casa editrice queste carte dopo la sua morte però non avranno più l'interesse da lei sperato al punto tale che non si parlerà più di pubblicazione fino a quando poi finalmente la Morino che lavorava presso Feltrinelli ha l'incarico di sceglierle e di raccoglierle in volumi diaristici perché erano una moltitudine di fogli e foglietti che sarebbe stata difficilmente pubblicabile per la sua mole e noi troviamo la doppia pubblicazione postuma dei diari di Aleramo cioè il diario di una donna di cui vi parlo io oggi che è datato quindi 45-60 come raccolta va dalla fine dal mio diario cioè della raccolta precedente quindi dal 1945 fino a pochi giorni prima della morte di Aleramo che come sapete avviene nel 1960 poi l'anno successivo questo volume viene pubblicato nel 78 l'anno successivo quindi nel 79 la Morino raccoglie nuovamente i diari 40-44 non più nella scelta dal mio diario ma è una raccolta molto più ampia che viene intitolata Un amore insolito quindi se riflettiamo già sulla titolazione quindi di questi tre blocchi che a livello editoriale escono alternandosi cioè esce prima 1940-44 poi il volume diario di una donna che completa il quadro esistenziale quindi va dal 45 alla morte e poi di nuovo in ultimo il volume che ritorna agli inizi e che ripropone il 40-44 se riflettiamo sui titoli due ci danno una definizione di genere cioè dal mio diario e il diario di una nonna ci fanno capire immediatamente che si tratta di una scrittura diaristica il titolo dell'ultima raccolta è invece Un amore insolito chiaramente è viceversa un titolo contenutistico che ci fa capire viceversa che il senso complessivo della raccolta diaristica degli anni 40-44 è tutta incentrata sul suo ultimo grande amore questo fallimento amoroso nel rapporto con Fanta e Mataporta volevo iniziare dandovi un assaggio di quella che è la scrittura diaristica di diario di una donna dopo questa breve presentazione per farvi capire quale diversa scansione alla scrittura di Sibilla di Ramo per quanto riguarda i diari con la prima pagina del volume diario di una donna anzi con la prima nota diaristica ovvero l'incipit appunto dell'opera esattamente dopo un mese di accampamento qui nella soffitta i due giovani hanno potuto oggi andare ad abitare in uno studio ceduto a loro da un amico ritrovo il silenzio intorno a me la solitudine la possibilità di riprendere a scrivere e quella mestissima cosa che è la libertà di cui si sente il valore solo quando manca c'è la stufa accesa c'è la piccola lampada velata come un mese fa come in tante altre serie di tanti anni ma un mutamento è avvenuto in me non so precisarlo non voglio ancora analizzarlo non posso misurarne l'estensione e la profondità solo questo è certo non sono più la stessa di quando attendevo il ritorno di Franco ora è un mese e va nella mia anima l'accettazione silenziosa di questo mutamento senza gioia ma anche senza sofferenza stranissimamente vedrò le prossime sere se avrò l'impulso di spiegare a me stessa qui nel diario il mio nuovo stato oppure se da questo stato sorgerà qualche imprevedibile atto grazie capiamo capiamo già dall'incipit del diario il senso della scrittura dialistica per Aleramo noi possiamo dire che Sibilla Aleramo dedica praticamente tutta la sua vita alla scrittura se guardiamo le date da una donna scritta all'inizio del secolo andiamo avanti con una successione di opere edite che arrivano alla fine degli anni 50 Aleramo quindi dedica tutta la sua vita a scrivere però possiamo anche dire che tutta la sua scrittura riflette la vita di Aleramo c'è un intreccio fortissimo tra vita e scrittura e possiamo dire che la vita è rivessuta da Aleramo attraverso la scrittura chiaramente l'autobiografia la notiamo essere un tema ricorrente sia nelle scritture più note una donna per eccellenza di cui parlerà la professoressa Zancan sia di tutta la scrittura poetica di Aleramo dei romanzi anche dell'unico romanzo scritto in terza persona quindi la vita di Aleramo è alla base della sua scrittura ma lei stessa poi va oltre va oltre verso un processo di trasfigurazione di se stessa attraverso la scrittura narrativa o poetica e nei diari questo intreccio vita e scrittura si fa ancora più evidente ancora più forte proprio perché la scrittura diaristica di per sé è una scrittura che parte dal quotidiano e quindi parte dalla vita quotidiana il diario è un diario proprio perché ha delle scansioni cronologiche dei luoghi e delle datazioni precise da cui prende avvio la scrittura quindi scrivendo diari non si può non partire dalla vita quotidiana e quindi dal racconto di sé ma Sibilla non scrive solo per narrare il quotidiano anzi il narrare il quotidiano è il punto di partenza di una sua poetica di scrittura molto più ampia Sibilla scrive diari per motivi variegati che si intrecciano scrive perché vuole spiegarsi perché vuole indagarsi perché vuole raccontando quello che le è accaduto cercare di capire il senso profondo della sua esistenza e quindi inevitabilmente lei partendo dal presente va indietro verso il passato ogni racconto ci offre inizialmente la descrizione dell'avventura quotidiana di ciò che le è accaduto di quello che ha letto di quanto ha fatto di chi ha incontrato ma anche delle miserie delle difficoltà del quotidiano della carenza di cibo della mancanza di legna con cui scaldarsi delle difficoltà pratiche che la attanagliavano in tutti gli anni dal 45 in poi ma inevitabilmente poi la scrittura si fa altro per andare nel passato e recuperare dal passato un senso a quella che è la sua vita di oggi quindi è una scrittura circolare che parte dall'oggi per andare indietro e per andare poi verso un senso più universale un tempo molto più dilatato e molto più ampio allora noi capiamo che attraverso la scrittura diaristica Sibilla riflette quella che è la sua ansia di comunicazione da un lato questa ricerca di un interlocutore che è costante in tutta la sua scrittura la ricerca di qualcuno a cui rivolgersi qualcuno a cui rivolgere quanto lei gradualmente andava scrivendo e quest'ansia però di comunicare è strettamente connessa un'altra ansia che a Tenaglia Sibilla per tutti gli anni della sua esistenza che è quella di non essere riconosciuta dai posteri lei continuamente mantiene a catasta raccoglie chiude nei bauli quanto andava scrivendo con il terrore che dopo la sua morte la quantità enorme della scrittura e dei fogli che a mano lei vergava venissero dispersi inizialmente lei spera che Matacotta possa essendo molto più giovane di lei farsi poi custode della memoria di Sibilla ma dopo il collo del sogno di amore che già in questa prima pagina iniziamo ad intuire perché il diario di una donna inizia proprio quando Matacotta si è allontanato e il rapporto tra i due ormai sta concludendosi poi dopo subentrerà il suo amore ultimo che è un amore non più per un uomo ma per l'umanità come lei stessa dice prendendo la causa del comunismo aderendo al partito comunista e legandosi di un'amicizia di una collaborazione molto intensa con Togliatti che poi sarà il suo esecutore testamentario quindi alla fine è la speranza che il partito conservi le carte cosa che poi è accaduta perché come voi tutti sapete l'archivio di Sibilla Leramo che è un archivio di estrema importanza a livello letterario e conservato a Roma presso gli studi Poglianci quindi volevamo leggere una pagina dedicata a questa ansia di conservazione e desiderio di mantenere i manoscritti e le carte passato passato l'intero giorno fino ad ora a sfogliare ancora una volta i pacchi di vecchi manoscritti dal 1901 agli anni ultimi in seguito ad una richiesta di qualche pagina inedita per un nuovo giornale letterario non ho trovato nulla di utilizzabile allo scopo viceversa ancora una volta e forse più chiaramente che mai ho sentito la somma enorme di vita che è espressa in quelle migliaia e migliaia di foglietti espressa caoticamente alla rinfusa spesso in maniera quasi indecifrabile ma costituente una testimonianza quale forse nessuna donna ha mai lasciato tanto ampia di sé e con tanta fedeltà alla propria anima setata ho sentito che dopo la mia morte questa eredità di parole assumerà un valore profondo se troverà chi avrà dedizione e forza sufficiente a ordinarla e pubblicarla sarà franco oh io lo prego qui stasera che se egli non dovesse sentirsi in grado di compiere la missione che gli ho affidata se l'opera sua personale non gli consentisse di dedicarvi sì lo prego di cercare chi possa sostituirlo lo prego di far sì che non si disperda insieme alle mie ceneri la sostanza spirituale adonata in tutte quelle pagine lo prego come in un punto di morte ed egli mi ascolterà non mi tradirà vero? franco? il diario quindi ci racconta la vita di Sibilla il diario ci racconta le ansie di non essere riconosciuta di essere dimenticata che poi nella vita concreta si rivelava come un trascorrere le giornate a rileggere quanto lei aveva scritto negli anni a rileggere carteggi amorosi o intellettuali e quindi all'interno della scrittura diaristica noi ci troviamo ad affrontare una scrittura molto composita perché non si tratta solo di un diario all'interno del diario noi troviamo inseriti talvolta proprio incollati nel manoscritto passi di lettere di opere scritte negli anni precedenti per non ricopiare come lei stessa dice il diario diventa quasi per usare un termine più recente un collage dove altri frammenti narrativi o epistolari si inseriscono all'interno di un tessuto diaristico un esempio tra i tanti che abbiamo scelto per leggervelo insieme è quello in cui lei racconta rielaborando una sua storia ripensando una sua storia d'amore conclusa tessi tanti anni prima scrive un frammento di una parte di poesia che è stata pubblicata e raccolta e poi scriverà dopo una conclusione che non sa perché ma poi non ha mai pubblicato quindi troviamo un incastro di un'opera edita di un'opera poetica edita con un inserimento viceversa inedito fra le molte centinaia forse migliaia di pagine del pacco di lettere mia boccioni è saltata fuori una poesia datata del 23 settembre del 13 ancora oggi sono andata a ricercarla in momenti la prima raccolta dei miei versi c'è ma solo la prima parte solo i primi brevi 18 ancora oggi tra la folla nel sole repentinamente ho desiderato morire senza lacrime su me stessa ho pianto come su una morta nel sole nella città turbinosa oggi come ieri ho camminato negando di essere viva morta ero tuttavia solo una cosa umana sopra l'onde in formi vaghe andavo non so perché non stampai il seguito che ora ricopio qui incontro a quel solo che pensavo ancora vivo sotto il cielo al solo che potesse vedermi e fermarmi e riconoscendomi morta dirmi che ho vissuto e non l'ho trovato come se anche egli si ritenesse in quell'ora morto un triste compito oggi come forse ieri è verso me vareggiata unica rimasta nel sole e domani quindi il diario come vedete ci racconta di Sibilla ci offre quasi un canovaccio per una sua biografia ci racconta della sua attività creativa di quella in corso però molto sporadica e viceversa di quella del passato che lei guarda con grande rimpianto il diario è anche però un luogo dove lei annota i suoi incontri ed è uno strumento preziosissimo per noi storici della letteratura per ricostruire la sua rete di relazioni intellettuali per capire quali erano gli incontri quali erano i libri che lei leggeva quali erano gli eventi culturali a cui lei partecipava ed è anche verso la fine da quando lei aderisce al partito comunista uno strumento per ricostruire la sua vita politica perché Sibilla Leramo come in parte avrete letto qui nella mostra svolgere poi un'intensa attività di promozione culturale andando a leggere le sue poesie per il partito in sedi diverse d'Italia e lì lei continuerà la sua vita di errabunda come lei stessa si definisce prima nella prima parte degli anni giovanili per motivi talvolta amorosi o per motivi vicissitudini diverse poi negli ultimi anni viaggerà molto perché richiesta per conferenze e per letture non solo in Italia ma anche all'estero perché compierà dei viaggi molto importanti per poi scrivere dei reportaggi e degli articoli per le riviste presso le quali lei collaborava e mi è sembrato opportuno scegliere un frammento di diario di viaggio in cui attraversando proprio questi luoghi a lei legati alla memoria antica gli anni appunto in cui il padre era stato trasferito qui a Civitanova e legati anche nel suo immaginario all'evento più drammatico della sua esistenza lei ritornerà dopo tanti anni in viaggio in treno e scriverà la nota diaristica che ora vi leggiamo non ero più passata dopo la guerra per questa linea Civitanova è stata molto battuta e proprio nella zona presso la stazione dove mio padre resse più di 60 anni fa la fabbrica di vetro era distrutta almeno così mi è parso dal finestrino del treno ho la sensazione che siano rimasti qua e là per questa strada e nel mondo e nel mondo di me Brandelli in alto sul poggio poco fa fermo la mia ultima illusione Franco e ora Civitanova l'illusione prima è la più tragica 50 anni e il paesaggio non è mutato né il colore del mare né il rosso del trifoglio in fiore penso a quello che si chiama destino a quanta parte di caso c'è ineluttabilmente in ogni esistenza umana e a quanta parte di volontà di autocreazione e mi chiedo se l'avvenire modificherà la proporzione si ridurrà a un minimo quel che va di fatale sin dalla nascita nella sorte di ognuno vedete in questa pagina capiamo subito in maniera esplicita come Sibilla parta da un dato quotidiano da un avvenimento del presente in questo caso il passaggio lungo la linea ferroviaria che attraversava dei posti alle chiari e a lei connessi a una memoria lontana per poi andare indietro con il ricordo e attraverso la memoria far riaffiorare un frammento di vita del passato quindi una scrittura che come vi dicevo prima è una scrittura che svela all'interlocutore l'essenza intima della poesia della poetica del senso più profondo della scrittura complessiva di Sibilla Lerano e infatti Sibilla continuerà a scrivere fino a pochissimi giorni prima della morte cercando attraverso il diario di mantenersi in vita come scrittrice volevo chiudere infatti questo intervento con l'ultima lettura dell'ultima nota di diario di una donna ultima nota che risale al 2 gennaio del 1960 e pochi giorni dopo Sibilla morirà presso la clinica dove era stata ricoverata grazie grazie anche all'intervento di Togliatti del partito grazie nell'ultimo dell'anno né ieri trovai la forza di annotare una parola c'era un magnifico mazzo di rose mandatomi da Togliatti con un suo caro biglietto a mano ora però si appassite non riesco a ricordare chi ieri venne a visitarmi solo l'ultima che era già notte Carlo Bernari e sua moglie abitano vicino e hanno l'auto alle 21 chiuso la televisione e subito addormentata sino alle 8 di stamane tempo chiaro ma fatico a tenere gli occhi aperti con la fine della vita si spegne la scrittura vita e scrittura credo che in questa ultima nota rivelano il loro intreccio Sibilla sta morendo e la scrittura si sta spegnendo grazie ringraziamo Miriam Trevis e ora Gianni Turchetta il professore docente di letteratura italiana contemporanea all'Università Statale di Milano parlerà sul tema questo viaggio che amavamo amore Dino Campana e Sibilla Lerano il professor Gianni Turchetta per alcuni anni si è occupato prevalentemente del periodo fine ottocento prima novecento con studi monocorafie su Campana D'Annunzio Pirandello in seguito si è occupato del secondo novecento con saggi su Consolo Sciascia Cassola Moravia Tadini Testori Mastronati ha approfondito inoltre lo studio teorico questioni teorico metodologiche della scrittura in particolare per quanto riguarda la teoria della narrativa e la critica sociologica pubblicato studi di storia delle editorie tradotto da varie lingue dall'inglese dal francese dal serbo croato i suoi libri su ha curato l'edizione dei canti orfici nell'ottantanove per Marco si Marco Dino Campana biografia di un poeta per la Feltrinelli monografia di Gabriele D'Annunzio il punto di vista appunto approfondisce gli aspetti teorico metodologici della narrativa critica letteratura e società percorsi ontologici io quelli che sbadigliano li ammazzerei piacerebbe sapere cos'è è Meccano sì Nittadini eccetera Meccano poesie e racconti scelti di vari autori tra cui appunto Gianni Turchetta letteratura come coscienza introduzione ad Alberto Moravia il poeta il vagabondo e l'emigrante i viaggi di Dino Campana il cazzolaio di Vigevano di Luce Mastronardi il punto di vista del naso cioè proprio insensi nella letteratura il sound del parlato e l'inettitudine del sottoproletariato nei racconti romani di Moravia Tadini Testori e Mastronardi e tante storie per i gialli storici fuori e dentro il cuore di Mamma Napoli alcuni di questi di questi libri sono stati curati da Spinazzola che è appunto il maestro di Gianni Turchetta almeno così potrei dire grazie bello della diretta ho subito ravesciato un bicchiere d'acqua e sì ma questo fa parte del cabaret diciamo così io ringrazio gli amici di Civitanova Terme Civitanova Marche per avermi invitato all'inizio è un disastro questa bella presentazione con tutti infiniti titoli ma beh l'acqua che ho versato riprendo subito l'argomento sottolineando che sarò l'unico maschio a parlare di Sibilla all'eramo e di Campana continuo a fare pasticci con il microfono adesso la finisco il compito che ho adesso secondo me è al tempo stesso molto delicato e molto facile è molto facile perché parlare del carteggio Campana e Ramo se vi parlate di un libro veramente che colpisce io non so quante volte l'ho letto da studioso la prima volta insomma non credevo ancora non lo sapevo di essere uno studioso lo leggevo perché mi piaceva Campana ed è ogni volta una botta al cuore allo stomaco e detto così può sembrare così un po' irrazionalistico un po' banalizzante però vi assicuro che tutto tranne che irrazionalistico è il mio atteggiamento delicato però perché e qui entriamo subito nell'argomento questo carteggio così bello così affascinante in realtà è oggetto di ma non so neanche se di discussione ho l'impressione che non sia stato neanche affrontato criticamente in maniera adeguata fatto sta che per andare al nodo della questione questo carteggio è la storia dell'unico grande amore di Dino Campana tornerò su alcuni aspetti controversi e c'è un dettaglio che non è un dettaglio questo unico grande amore di Dino Campana è in sostanza l'atto finale della sua esistenza pochi mesi dura pochi mesi questa storia comincia il 3 di agosto del 1916 tornerò su alcuni dettagli leggerò anche alcune cose arrischiandomi fra tante attrici vere a leggere qualcosa anch'io e in sostanza finisce de facto come possibilità di incontro come stare d'amore nel gennaio del 1917 poi ci saranno ancora contatti e lettere ci sarà un incontro drammatico nel settembre del 1917 però la storia finisce nel gennaio del 1918 mentre ancora i due si scrivono e Campana implora da un lato perdono dall'altro lato chiede disperatamente a Sebilla di andare a trovare viene ricoverato il manicomio dove morirà siamo nel 1918 l'inizio del 1918 12 gennaio per precisione Campana morirà nel 1932 senza essere mai più uscito dal manicomio e non ho qui modo di affrontare diciamo la questione poesia follia la figura di Campana è certo che Campana è appunto un autore importante della nostra storia letteraria che certamente ci impone un confronto spregiudicato secondo me non con quello che ha dentro lui che aveva dentro lui ma con quello che abbiamo dentro noi perché se Campana continua a chiamarci se Campana continua a metterci in gioco e questo significa che forse ammesso che fosse follia la sua non è così lontano dalla nostra ecco di fronte alla lettura del carteggio Campana del ramo e tralascio per motivi un po' di tempo un po' di opportunità alcuni dettagli anche filologici d'archivio alcune carte per esempio non sono più ricomparse una malignità su Franco Matacotta la dobbiamo dire c'è un testo che si è portato via e nessuno ha mai più visto ed allora che è stato pubblicato anzi l'ha pubblicato prima in forme censurate non si capiva neanche che fosse una lettera poi si è scoperto che era una lettera non voglio andare su questo però cosa succede? che intorno a questo carteggio si è un po' polemizzato e i campanologi i campanisti i campanilisti sono un po' vittimisti cioè tendono a dire questo grande amore ha sconvolto campana e ha messo in questione il suo equilibrio psichico e questo è vero però di solito si tratta Sibilla Reramo un po' come se fosse una appunto donna di facili costumi che ha trovato questo ragazzino sperduto disperato e lo ha distrutto cosa che qualche volta anche i deliri paranoici dell'ultimo campana hanno accreditato ma le cose sono molto più complicate sono molto più complicate perché lo strazio di entrambi perché campana aveva 31 anni non era un ragazzino ed è veramente fuori luogo rappresentarlo come qualcuno che non aveva avuto mai esperienze i critici spesso sono anche un po' moralisti insistono sul fatto che non si andava nei bordelli e non toccava mai nessuno delle cose abbastanza curiose no è veramente un grande amore un grande amore che ci lascia di sasso perché mi viene da dire è l'archetipo quasi del grande amore siamo alle prese con una storia che sembra avere tutti connotati della vicenda maledetta tragica i due vagabondi i due esardicati non riraccontano le storie del Reramo lo sapete tutti che cosa è successo campana una vita appunto di sconquassi entrambi cominciavano ad essere conosciuti cioè Sibilla era già da dieci anni conosciuta per una donna campana cominciava a avere una sua piccola fama che non era più soltanto tra i addetti ai lavori anche se questo gli procurava pochi vantaggi dal punto di vista materiale e poi quello che succede appunto attraverso le loro lettere è che ne viene fuori davvero un libro come chiamarlo? sì un romanzo epistolare non lo so è quasi romanzo una poesia a due voci un canzoniere tesissimo che d'altra parte era destinato soltanto a loro due e in questo senso appunto la questione delle scritture private che ha toccato Miriam Trevisan poc'anzi è molto interessante e credo che si possa dire che in questa vicenda certamente non c'era una volontà di parlare ad altri si parlavano loro due e questo è uno dei motivi per cui quando ci mettiamo il naso dentro restiamo così coinvolti perché è difficile sfuggire appunto all'effetto di un discorso amoroso frammenti di un discorso amoroso appunto che si caratterizza da un lato per la sua eccezionalità una situazione estrema addirittura poi lui andrà fuori di testa definitivamente ma permettetemi di dirlo proprio perché così estremo questo carteggio è così tra virgolette comune una fenomenologia dell'amore ai suoi estremi e cosa facciamo ci ritroviamo secondo me quando lo leggiamo e questo colpisce io vorrei dopo aver toccato la questione della follia così al volo un po' dicendo che forse siamo più matti di quello che crediamo o forse sono più normali loro di quanto avremmo creduto Sibilla tra l'altro ha scritto lei stessa anch'io sono pazza e non è una sola occasione ma varrebbe la pena di vedere quanto lucido fosse il pazzo Campana rispetto a tante cose una la voglio dire la guerra perché non dobbiamo dimenticare che questo carteggio si svolge durante gli anni della guerra non tocco il vicissuto di Campana che voleva andare a combattere poi è stato riformato lasciamo perdere però Campana aveva una lucidità di giudizio sulla guerra e se confrontate gli sporadici aforismi mi viene da dire di Campana che dice è una follia pensare che la gente si possa rinnovare il mondo si possa rinnovare attraverso la guerra e lo confrontate con tutte le scritture dei signori sani di mente tra virgolette che dicevano la guerra è solo l'igiene del mondo come sarà bello il sangue ci purificherà eccetera eccetera e anche qui mi taccio secondo me le cose parlano da sole è un momento per Campana particolarmente complicato anche perché evidentemente il suo squilibrio sta andando avanti e non è un caso che sia in questo momento in questo periodo che Campana per esempio reclama violentemente la restituzione del famoso manoscritto dei Cantiorfeci perduto anche qui è un'altra storia da raccontare il più lungo giorno Campana aveva scritto il suo unico libro poi e l'aveva dato a Papini e poi a Soffici e questo manoscritto fu perduto mi viene da dire non c'erano le fotocopie e questo non deve aver proprio contribuito alla tranquillità psichica del povero Campana il fatto sta che quando comincia la storia d'amore con Sibilla o meglio quando comincia il loro contatto Campana dà l'impressione che sono una persona un po' sul chi va là e anche le risposte che dà a Sibilla sono da un lato molto guardinghe da un altro lato già percorse da profezie su quello che gli sta succedendo a un certo punto per esempio le scrive siamo proprio i primissimi contatti finita la guerra non esisterò più ammesso che esista ancora sta anticipando questa sorta di fatale destino che ormai lo attende di sparire e di nuovo molte cose ci sarebbero da dire certo è che in questa situazione Campana per la prima volta nella sua vita ha un investimento emotivo molto grande un investimento emotivo molto grande in cui si gioca tutta la sua ambivalenza emotiva e anche qui vorrei essere più analitico non posso farlo Campana vive nei confronti di Sibilla da un lato un amore travolgente da un altro lato rimette in gioco tutte le sue ostilità i suoi odi verso la figura materna verso la figura femminile più o meno odi giustificati talvolta anche culturalmente e questa ambivalenza finirà di schiantarlo certo questo è vero le sequenze di Campana che sta per essere ricoverato sono impressionanti dice per esempio che la causa della guerra europea e mondiale sono le donne poi passa a dire che la colpa della guerra mondiale è di Sibilla Leramo poi passa a dire la causa della guerra in realtà non è Sibilla Leramo è il mio amore con Sibilla e poi arriva a dire no ma il colpevole della guerra sono io e questo però se seguite i passaggi delle equivalenze folli ecco ci dice qualcosa però di nuovo non si può banalizzare ridurre alla questione della follia perché appunto i due si incontrano e loro è un riconoscersi fra persone bisognose di tante cose forse perdonatemi questo psicologismo anche da parte di Sibilla un po' di volontà materna l'aveva 40 anni la spessa butta mi parla nei confronti dei suoi uomini in questo atteggiamento e da parte di Dino Campana invece un lasciarsi riconoscere un po' figlio e non soltanto perché era più giovane fatto sta che il loro incontro è appunto un incontro tutt'altro che fra un timidino e una donna una dark lady assassina è un incontro appunto fra due pari mi viene da dire in cui certamente esplode subito un amore travolgente io qui non so quanto avrò tempo di leggere ma qualcosa vorrei proprio leggerlo un pezzo di una delle prime lettere di Sibilla a Dino Campana perché non ho baciato le tue ginocchia avrei voluto fermare con l'automobile giù per la costa tornare al barco a piedi nella notte che c'è il tuo petto per questa bambina stanca tornare come una bambina questa del ritratto a dieci anni non quella che ti ha portato tanto peso di storie di memorie affannose che ti ha parlato come se stesse ancora continuando il suo povero viaggio disperato come se non ti vedesse quasi non vedesse lo spazio intorno le querce l'acqua il regno mitico del vento e dell'anima tu che tacevi o soltanto dicevi la tua gioia sentivi che la visione di grandezza e di forza sarebbe creata in me non appena io fossi partita nella tua luce d'oro e non ho baciato le tue ginocchia salto un pezzo è vero che vuoi che io ritorni come una bambina di dieci anni è vero che mi aspetti rivedo la luce d'oro che ti ride sul volto tacere insieme tanto stesi al sole d'autunno ho paura di morire prima Dino Dino ti amo ho visto i miei occhi stamane c'è tutto il cupo bagliore del miracolo non so ho paura è vero che tu mi hai detto amore non hai bisogno di me eppure la gioia è così forte e sono molti i passaggi in cui appunto i due in maniera diversa esprimono un altro tipo di ambivalenza emotiva non certo quella dell'aggressività l'ambivalenza fra paura della perdita e estasi una gioia travolgente e questa gioia travolgente non dobbiamo dimenticare che lo sconclusionato sconquassato vagabondo Dino Campana persino arriva a progettare una vita più tranquilla è l'unico momento della sua vita in cui immagina di poter diventare diciamo così una persona con la testa a posto c'è un racconto ancora di Sibilla di un periodo in cui passano un mese insieme in una casetta di montagna perché molti dei loro incontri sono avvenuti in questi luoghi diciamo così un po' di vacanza soprattutto in montagna e Sibilla ricorda che Campana fu pure in mezzo a mille stravaganze molto tranquillo innamorato come un bimbo dicevano di non essere più capaci di scrivere ma non pareva soffrirne eravamo felici Campana però lancia dei segnali di nuovo in lui c'era una grande consapevolezza e come dire una consapevolezza di essere dottor Jekyll e mister Hyde di essere pronto a cambiare molto e soprattutto a capovolgere la sua dolcezza un po' infantile in una violenza scatenata lo sa e avverte in tanti modi Sibilla in tante lettere e gli esempi sarebbero veramente tanti passaggi in cui dice come sapete la testa vuota piena del vento Iemale che empie questa valle d'inferno l'inferno mi diverte o ancora un altro momento mi accorgo di sragionare mi avvicino al mio fatale paese qual è uno dei passaggi decisivi certamente il passaggio in cui dagli incontri diciamo dei luoghi di vacanza e montagne i due si avvicinano all'ambiente fiorentino l'ambiente fiorentino scatena in Dino Campana non soltanto la gelosia nei confronti di Sibilla e dei suoi amori passati ma certamente anche quel groviglio di risentimenti che aveva nei confronti della società letteraria fiorentina perché aveva perso il manoscritto ma non solo di nuovo bisognerebbe andare più articolatamente a guardare nelle dinamiche psicologiche di Campana certo poco riconosciuto certo trascurato e quindi l'incontro fra una Sibilla che comunque sentiva come più inserita e queste possibili storie lo rende furioso di gelosia e qui i guai cominciano ad essere grossi in particolare con ogni probabilità il momento di crack della vicenda un momento che è stato anche rappresentato non in un film soltanto quello di Michele Placido ma in due c'era anche quello di Facini 85 però diciamo così sui film tralascerei perché non rendono ecco abbastanza ma non voglio affrontare anche questo discorso fatto sta che certo Campana comincia a essere violento cominciano soltanto a lanciare a Sibilla delle accuse deriranti ma fa di più la picchia la picchia e questo potrebbe essere avvenuto una prima volta in una villina che non si sa se per caso o per destino forse era una villa a Marina di Piso dove abitato anche da Nunzio di cui comunque si parla nel forse che sì forse che no fatto sta che appunto la vicenda diventa drammatica e a un certo punto Sibilla prima scappa poi lo riprende poi riscappa ancora e a quel punto Campana le scrive chiedendole perdono aggiungono notarella nella prima parte del carteggio soprattutto Sibilla che scrive nella sua appunto vocazione di scrittura è quasi un po' travolgente nei confronti di Campana che è più ritroso nella fase più calda anche Campana scrive moltissimo e spesso scrive chiedendo perdono per esempio così Rina adorata perdonami perdonami o abbandonami così è troppo cara non so ti scrivo ti aspetto e so che non verrai questa sera parto andrò a Firenze perché hai voluto staccarmi da te dimmelo sarò felice ugualmente mi aiuterai a staccarmi da tutto a liberarmi sei buona ti ho amato ti adoro non puoi abbandonarmi così ecco dunque Rina Rina Sibilla le amo Rina che amo Sibilla mia si ridi cara ridi così io sarò felice e potrò morire Rina quanto sei cara forse verrai e vorrei ancora vedermi ecco quanto ti posso dire ancora se questa sera non sei venuta sola gioia mia quanto ti amo non so più ho bisogno di te verrò a Pontedera e tu mi dirai poi mia cara Rinetta Rinetta aspetta il tuo amore che soffre addio no non vengo devi guarire ed essere bella vado a Firenze e tu mi scriverai fermo opposta addio dunque vedete le alternanze di campana ma certamente la consapevolezza di questa violenza che c'è in lui d'altra parte di nuovo tornano insieme sono vicende che si svolgono in pochi mesi ma con eccezionale intensità e probabilmente in questo periodo peraltro campana scrive alcuni dei suoi versi più belli dedicati a Sibilla quelli che cominciano i piloni fanno il fiume più bello ma avanzo un po' nella storia campana chiede perdono la vede si picchiano e nel frattempo ha anche un'ambivalenza intensissima in quello che dice di Sibilla con gli amici uno scambio fra gli altri a un certo punto manda una cartolina a Giovanni Boine dicendo che Sibilla è una troia scusate il termine che è testuale e non l'ha neanche mandata cioè appena partita gliene scrive un'altra dicendo scusa scusa mi sono sbagliato e in questo periodo volendo essere andare un po' più a vedere nelle diciamo così diramazioni di questa storia Sibilla da un lato si tira da parte molti amici le consigliano di non scrivere più a campana da un'altra parte lei si mostra ancora fiduciosa di poterlo cambiare lasciatemi dire un atteggiamento un po' femminile quello io lo cambierò io lo salverò lui sarà un altro e agli amici che li invitano a tirarsi da parte lei un po' si tira da parte è un po' però tempesta ancora Dino di lettere di nuovo avvicinandosi raramente restando spesso lontano però campana si mostra sempre più consapevole di non essere in grado di controllarsi c'è una lettera famosa che vorrei leggere più partitamente leggo soltanto un passaggio noto mia cara amica sono troppo stanco e troppo malato per cercare di comprendere prendo il partito dei più deboli il mio solito partito parto e ancora parte Sibilla lo stesso come dire il vagabondaggio continuo di campana si mescola il vagabondaggio di Sibilla e viene elevato alla massima potenza dalla complessità del loro rapporto vanno ancora una volta insieme in una villa di un'amica Anstrid Anfeld e qui la vicenda il loro rapporto raggiunge livelli di violenza insostenibili tanto è vero che l'amica scriverà di non poterli più sopportare di mandargli via che hanno rovinato la testa anche a lei tutta la notte si sono battuti e graffiati scrive a Emilio Cecchi si ammazzano senz'altro se qualcuno non interviene e in questo momento che si fa sempre più caldo Campana incontra ancora Sibilla e non si sa se appunto subito prima o subito dopo scrive una delle sue poesie più famose relativamente a questo rapporto siamo fra la fine del 1916 l'inizio del 1917 sono passati solo pochi mesi da quel 3 di agosto eppure in sostanza è l'ultima volta che i due si incontrano da amanti e Campana scrive questi versi celebri anche per la ambigua ironia che si mescola al patos amoroso è quella poesia che viene conservata in un appunto in quasi una minuta scritta a matita che viene citata come la poesia delle rose in un momento sono sfiorite le rose i petali caduti perché io non potevo dimenticare le rose le cercavamo insieme abbiamo trovato delle rose erano le sue rose erano le mie rose questo viaggio chiamavamo amore col nostro sangue con le nostre lacrime facevamo le rose che brillavano un momento al sole del mattino le abbiamo sfiorite sotto il sole tra i rovi le rose che non erano le nostre rose le mie rose le sue rose post scriptum e così e così dimenticammo le rose la storia sta ormai precipitando e Sibilla però non sta andando su tutt'altro che disattenta alla salute fisica e mentale di Dino fa tutto il possibile perché lui possa curarsi di nuovo una vicenda che era poco conosciuta ora abbiamo dei dati piuttosto precisi però con una visita con un famoso psichiatra che era il professor Tanzi vista che avverrà il 22 gennaio del 1917 però ormai è l'ultimo incontro fra i due incontro in forma di amanti Sibilla scappa davvero Campana va a vivere in montagna gli dicono che così si può calmare però nelle Alpi piemontesi e Sibilla ancora iscrive in qualche modo alludendo una possibilità perduta due righe soltanto Dino io e te ci siamo amati come non era possibile amarsi di più come nessuno potrà mai amare di più Dino e il dolore non importa e non importa la morte Campana alterna ancora scritture violente a scritture amorose implora più volte perdono Sibilla si imbestialisce e in particolare c'è una sua reazione violenta nel momento in cui Campana dice che lui a perdonare lei insomma reagisce con violenza però è sempre molto amorosa e capisce che ormai non è possibile stare dietro allo squilibrio di Campana che comincia a inseguirla in qualche modo comincia a inseguirla e le ripropone disperatamente non solo di tornare insieme ma addirittura di vivere insieme definitivamente è poco ricordato dai biografi ma voglio ricordarlo anche la mamma di Campana è molto dispiaciuta perché aveva sperato che Sibilla potesse essere per Campana appunto un'occasione di normalizzazione e c'è una sua lettera a Sibilla di Fanny Campana in cui dice beh forse sarebbe meglio che vi sposaste l'invita a regolarizzare la loro posizione ma naturalmente non è possibile vale la pena di ricordare che mentre avvengono questi drammatici eventi Sibilla siamo dell'aprile direi del 17 riceve anche l'annuncio della morte di sua madre che muore in manicomio e non entro su questa vicenda certo sono circostanze che colpiscono Campana cerca ancora di essere tenero da un'altra parte cerca di farla ingelosire non si sa se è vero ma le racconta di una storia con una pupattola che avrebbe trovato e con cui recitavo la commedia dell'amore disperato e la insegue al nord in particolare a Milano all'hotel Manin dove crede che sia ma poi Sibilla se ne va insomma i passaggi sono molti e li tralascio fatto sta che il loro ultimo incontro ultimo ultimissimo è davvero un incontro molto infelice perché Dino Campana viene arrestato al solito gli capitava spesso per l'insufficienza dei documenti perché per vagabondaggio vagabondaggio era un reato quindi bastava quello di nuovo dovremmo fare un ragionamento molto più articolato su che cos'è la repressione sociale in un paese dove solo camminare per strada in modo non riconoscibile significa poter finire in galera aggiungendo che Campana e di nuovo i suoi risentimenti potevano avere delle motivazioni veniva spesso fermato perché essendo biondastro e parlando spesso declamando verso il tedesco veniva scambiato per un tedesco e sono molti episodi in questo senso a un certo punto a Livorno poco a prima di conoscere Sibili capitò persino di arrivare quasi a un duello con un giornalista del telegrafo di Livorno e quindi il povero Campana capitava in situazioni non gradevoli e non sempre per colpa propria fatto sta che Campana viene fermato dalla polizia per vagabondaggio siamo nel settembre del 1917 e Sibilla si adopera presso i suoi amici più influenti perché Campana possa uscire e lo va a vedere lo vede per l'ultima volta racconta che leggo le sue rie ottenere di vederlo attraverso le sbarre rie si indiozzava mi chiamava Rina mi baciava rimane tra i ferri fuggì ebbe dal procuratore la promessa che sarebbe stato liberato e scrive ancora a cecchi è stato un colloquio di mezz'ora i carcerieri avevano quasi l'aria di patire sentendo lui si indiozzare e vedendo me irrigidita non si vedranno mai più Sibilla scriverà di Campana in particolare c'è un noto passo in amo dunque sono in cui parla dell'Orfeo Folle che era Campana appunto e Dino certamente va precipitando uno stato mentale sempre più preoccupante nel quale non mancano gli episodi di violenza nel senso di violenza paranoica nei confronti di Sibilla alle volte scatenata e poco controllabile alle volte più colta fra le varie manifestazioni dell'ambivalenza emotiva di Dino nei confronti della donna voglio ricordare un episodio abbastanza curioso e per certi aspetti straordinario la traduzione fatta da Dino Campana stesso di alcuni versi del Faust di Goethe che sono i versi relativi all'episodio della notte di Walburga in cui c'è una misteriosa figura femminile che somiglia a Gretchen che cammina ma è come se fosse già morta e ha una sottile traccia di sangue sul collo come la decapitazione da cui direi Gretchen sarà colpita si intitola letteratura cioè Campana mette questo titolo quasi fosse il simbolo della letteratura e certo non sembra una manifestazione particolarmente lineare quantomeno dal punto di vista affettivo nei confronti della figura femminile e da questa parte Campana resta molto lucido lucido nei confronti del suo squilibrio lucido nella consapevolezza della impossibilità di trattenere la propria stessa violenza Campana non è un poeta maledetto in questo senso perché non ha mai fatto del suo squilibrio una bandiera al contrario lo nascondeva lo trattava con diciamo con un atteggiamento primo di qualsiasi autoindulgenza soltanto ancora poche righe vado a concludere di una lettera a Carlo Carrà ce ne sono ce n'è più di una di una lettera a Carlo Carrà che era un amico comune peraltro scrive Campana Carlo Carrà è giunta l'ora però prima vorrei sapere qualche cosa tutto quello che si può di ci sono dei puntini e si capisce a chi allude spero che sarai pietoso a questo mio ultimo desiderio e che derai qualcosa di nel suo ultimo periodo sai sia ai tallone che ai safati eccetera Cardarelli ha detto che sommarcio e ha ragione onde il ridicolo della mia tragedia pure per quanto ho potuto mi sono tenuto lontano dal disgustoso e ho lasciato al destino esplicare la sua ferocia se in una notte in una grande città dove ho perduto il mio amore mi sono messo a piagnugolare vi domando perdono sapevate del resto che ero un imbecille ma Cardarelli non è abbastanza forte per dirlo lo sentivo senza di lui anche allora ovviamente il grande amore è Sibilla e vedete Campana come tratta se stesso si è dell'imbecille e conferma che è marcio come dice Cardarelli cerca ancora di rivedere Sibilla e ultimissimi scampoli di questo discorso amoroso fanno paura Campana addirittura l'ultimo messaggino l'ultimo breve messaggio lo manda dal manicomio chiede di andarlo a prendere e a questo punto però la sua vicenda è terminata e così è terminato questo carteggio che come dicevo prima è un libro un libro che merita di essere letto anche nella sua strana unità non è nato come libro ma così è rimasto una letteratura inquietante mi viene da dire anche una lettura che ci fa pensare al rapporto oscuro che c'è fra il nostro quotidiano e non solo lo squilibrio ma anche la poesia e l'amore perché no ripeto senza nessuna indulgenza verso il razionalismo ma forse un po' è capitato a tutti alla fine di una lettera una delle più belle proprio quella che Matakota ha portato via Campana scrive conferma che la sua scrittura non è rivolta a un pubblico esterno scrive una frase nota le mie lettere sono fatte per essere bruciate oserei dire per fortuna non è stato fatto grazie 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 al professore Gianni Turchetta e ora la professoressa Marina Zancan parlerà su il romanzo una donna e la scrittura femminile tra 8 e 900 la professoressa Marina Zancan è docente di letteratura italiana moderna e contemporanea all'università la sapienza di Roma coordina il dottorato internazionale in studi di genere fa parte del consiglio didattico scientifico del master in editoria giornalismo e menaggine culturali è una delle più importanti studiosi italiane nella storia della letteratura dell'intellettualità femminile si è occupata di questioni storiografiche autori e testi del novecento con attenzione particolare al dibattito teorico e al ruolo degli intellettuali nella società italiana della seconda metà del secolo al rapporto tradizione innovazione al confronto e allo scambio tra codici letterari ed altri codici della rappresentazione artistica e della comunicazione sociale in questo contesto con l'obiettivo di ricostruire in rapporto alla tradizione letteraria frammenti di storia dell'intellettualità femminile ha lavorato al recupero e all'interpretazione di testi di donne risalendo dal novecento a fasi e figure del passato ha pubblicato tantissime cose allora velocemente ha pubblicato Franco Fortini un racconto disperso di Ele Vittorini cinema e letteratura del neorealismo nel cerchio della luna progetto politecnico la donna in storia della letteratura italiana svelamento Sibilla Leramo una biografia intellettuale lettere di Caterina da Siena le lume di Gaspera e Stampa una donna Sibilla Leramo le città invisibili no le voglio leggere tutte perché è troppo bello le città invisibili di Italo Calvino ma questo è molto importante il doppio itinerario della scrittura la donna nella tradizione letteraria italiana editore Rinaudi e tantissime altre cose figure della memoria la storia nei racconti delle donne e soprattutto fa parte della fondazione Alba del Cestre di cui ha curato moltissimo il lavoro il prima e il dopo di Alba di Cespedes e tante altre cose e ha anche curato la pubblicazione di Artemisia di Anna Avanti quindi ora do a lei la parola grazie grazie della presentazione e grazie prima ancora dell'invito si sente messo bene perché mi da fastidio tenermi in donna scusate grazie di questo invito io sono molto contenta di avere l'occasione di tornare a parlare di Sibilla a Civitanova perché io ci sono stata già parecchi anni fa quando ci fu un grande convegno dedicato dedicato appunto a Sibilla Veramo e trovo giusto che Civitanova si faccia carico di una ripresa diciamo di discorsi e di lavori su questa autrice che è veramente di grande importanza nella nostra tradizione dunque a me avete chiesto di parlare di una donna quindi della prima grande opera di Eleamo e lo faccio con molta passione con molto interesse lo faccio anche cercando come sempre faccio così risulta anche da questa straordinaria elencazione di titoli lo faccio in rapporto alla tradizione letteraria cioè a me interessa capire l'importanza di un testo in particolare di un testo di un'autrice e spiegherò perché ma mi interessa anche capire perché e come sta o non sta all'interno della trasmissione perché questo è fondamentale cioè perché le donne le autrici non ci sono tendenzialmente nella tradizione letteraria perché non le insegniamo a scuola perché i ragazzi studiano una tradizione letteraria italiana tutta al maschile questo non vuol dire che io come dire sono interessata solo al recupero positivo delle figure femminili mi piace ricostruire dei quadri complessi naturalmente non è facile fare questo in poco tempo ma cercherò anche di dire perché una donna non è solo la prima opera di questa nostra scrittrice ma anche un testo importante della letteratura italiana del novecento e come dobbiamo leggerlo in rapporto a scritture di altre donne e in rapporto con la tradizione nel suo insieme allora abbiamo detto prima presentando la Leramo e la sua produzione abbiamo detto una donna 1906 1907 cioè viene concluso nel 6 distribuito nel 7 pubblicato dalla società tipografica editoriale nazionale Roma Torino quindi esce tra il 6 e il 7 è la prima opera ha già pubblicato alcune cose ma è la prima grande opera di questa autrice ed è la prima firmata Sibilla ad Leramo il nome è Rina Pierange Faccio come sapete nata da Alessandria nel 1876 morta a Roma nel 1960 e a lungo vissuta appunto a Cittano perché sottolineo il fatto che è la prima opera firmata a Sibilla Leramo perché secondo me questo è un dato importante per l'interpretazione del testo cioè noi dobbiamo tenere presente che Sibilla Leramo nasce diciamo con questo romanzo e cioè Rina Faccio si trasforma in Sibilla Leramo appunto attraverso la scrittura di questo romanzo e ce lo racconta cioè ha a che fare con la cosiddetta trama dello romanzo stesso quindi è il primo romanzo quello che segna la nascita dell'autrice è il romanzo che le dà sicuramente la notorietà ed è anche il romanzo che ne fissa l'immagine nel bene e nel male devo dire nel senso che in qualche modo una giovane donna che poi cresce nell'esercizio della scrittura che si trasforma come abbiamo sentito anche dalle altre relazioni e soprattutto dalla prima e dove si trasforma nel rapporto con la scrittura rimane molto vincolata al successo della sua prima opera vediamo un po' la storia del testo dunque ho detto è pubblicato nel 1906 ma viene scritto tra il 1902 e il 1906 e abbiamo tre redazioni questo non mi fermerò molto è sempre molto interessante per noi che studiamo i testi vedere le diverse redazioni ma mi interessa per ricostruire un po' anche la trasformazione di questo romanzo tre redazioni che portano poi la pubblicazione del 6 di un romanzo che nel 3 è parecchio diverso da quello che oggi leggiamo e bisogna cambiare perché quando lo scrive beh dal punto di vista della biografia dell'autrice lei scrive come ci racconta lei stessa nel romanzo questo romanzo quando abbandona il porto Civitanova Marche e si trasferisce a Roma quindi quando passa quando lascia Ulderico e Walter il marito e il figlio e sceglie appunto come vedremo di vivere per sé quando compie questo gesto di rottura e di separazione si trasferisce a Roma e si trasferisce in un primo momento nella pinetta Sacchetti nella casa appunto del padre incomincia a comporre questo romanzo sicuramente come si diceva prima un testo che è molto a che fare con l'esperienza dell'autrice ma sicuramente anche un testo solo in questo senso legato ad un percorso autobiografico non è un'autobiografia ma è un romanzo come d'altra parte dice chiaramente anche la presentazione del volume presentato appunto come romanzo è un romanzo che racconta la storia di un cambiamento e una nuova nascita una morte e una rinascita una nascita nuova che è segnata appunto dall'adozione di un nuovo nome io immagino che molti lo abbiano letto vi darò come dire una descrizione sommaria perché è veramente un romanzo difficile da riassumere nel senso che è complesso il suo significato racconta la vicenda della protagonista e la racconta dall'infanzia al tempo della scrittura del romanzo cioè dalla giovinezza infanzia giovinezza al tempo della scrittura del romanzo cioè come capite racconta quel periodo che è molto a che fare con la sua vita appunto che segna come dire la crisi di un'identità e la riformulazione di un'altra identità un'identità che è strettamente connessa con il lavoro intellettuale e con l'esercizio della scrittura è una rigenerazione attraverso la scrittura come la racconta sapete che è una successione di capitoli brevi ci troviamo di fronte a 22 capitoli brevi che si succedono diacronicamente quindi in qualche modo potremmo anche pensare di essere a fronte di un racconto beh se usiamo le categorie del letterario diciamo di tipo positivistico naturalistico positivistico cioè un racconto che segue un andamento appunto diacronico che però è diviso in tre parti quindi lei riunisce questi 22 capitoli brevi in tre parti e la la ricomposizione diciamo della materia nelle tre parti ci racconta un'altra storia che non è semplicemente la autobiografia dell'autrice perché dico questo beh perché la prima parte la prima parte racconta diciamo il percorso che accompagna la protagonista dalla giovinezza libera e gagliarda come dice l'inizio del testo no fino al momento in cui questa giovane donna tenta il suicidio quindi abbiamo dal punto di vista della biografia dell'autrice abbiamo un pezzo diciamo di storia vissuta a Milano poi il passaggio qui a Civitanova abbiamo il periodo in cui lavora nella fabbrica del padre il momento in cui incontra quello che sarà il marito l'aborto il matrimonio l'aborto poi la nascita del primo figlio fino quindi da un lato abbiamo come dire prima il momento della 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 panciullezza vissuta all'insegna del rapporto con il padre poi abbiamo l'identificazione con il ruolo femminile rappresentato dalla figura materna e l'assunzione in qualche modo del destino che la porta a ripetere il gesto della madre anche Sibilla quella che sarà Sibilla Rina diciamo tenta il suicidio quindi la prima parte si chiude con questo gesto di morte capite bene che è il percorso certo autobiografico è un'esperienza che lei racconta realmente vissuta ma è anche un racconto diciamo che sta a simboleggiare una come dire un'esperienza e la messa in crisi di questa esperienza l'assunzione di un ruolo che è lo ruolo della donna all'interno della famiglia e della sua funzione diciamo familiare e materna e poi questo gesto di morte che chiude quell'esperienza la chiude e qui comincia la seconda parte la seconda parte dello romanzo in cui la protagonista dice la donna che io era stata doveva morire doveva morire quindi una morte simbolica e diciamo l'avvio per quella che è una nuova nascita appunto anche qui c'è poco da riassumere sono i primi passi di questa giovane donna verso quello che è il mondo della lettura e della scrittura c'è naturalmente la figura del figlio che accompagna questi primi momenti e una progressiva ridefinizione del materno in rapporto a questa pratica appunto della lettura e della scrittura che per Sibilla Leramo si accompagna con la scoperta della questione sociale con i primi contatti con l'emancipazionismo e cioè con quella che è la sua esperienza sostanzialmente vissuta a Milano e poi vissuta ulteriormente a Roma tra Milano e Roma quindi un qualcosa che non ha che fare con l'esperienza vissuta qui ma è il contatto che ha quando dopo sposata per un certo un anno mi pare nel 1899 va a Milano voi sapete che questi sono gli anni dell'emancipazionismo e sicuramente Milano e Roma sono i due grandi centri dell'emancipazionismo italiano lei entra in rapporto con Ersilia Maino e con quello che è la grande associazione nazionale dell'emancipazionista diretta appunto da Ersilia Maino che porta il titolo di Unione Femminile Nazionale lei scriverà per un anno anzi dirige un giornale emancipazionista intitolato l'Italia femminile quindi abbiamo in questo secondo tratto del romanzo qualcosa che porta in primo piano anche l'importanza di questo incontro con il movimento emancipazionista su cui poi tornerò perché è molto interessante vedere proprio in rapporto a questo romanzo come i suoi problemi siano anche con le donne non soltanto con i critici letterari e con la storiografia letteraria ma anche con l'emancipazionista e con le autrici appunto che scrivono e sono presenti in questi anni a livello nazionale e poi abbiamo la terza parte del romanzo è una parte breve ed è quella che chiude con la scelta cioè messa a fronte diciamo della della scelta tra l'essere madre e moglie continuare diciamo in questo ruolo oppure essere qualcosa di diverso Sibilla sceglie per sé sceglie di essere se stessa e abbandona il figlio e arriva alla scrittura appunto dall'incomincio alla composizione del romanzo che noi leggiamo naturalmente questo è un riassunto che anche contiene un'interpretazione che vi spiega appunto qual è il senso reale del romanzo lei vuole raccontare la nascita di una scrittrice la sua rinascita attraverso appunto la scrittura bisogna dire alcune cose e cioè anche questo meriterebbe più tempo ma insomma è interessante vedere come il testo sia in prima persona però non ci sono nomi l'autrice e il personaggio protagonista e gli altri personaggi non hanno nomi anche il titolo è importante una donna no? è un titolo sicuramente genitore generalizzante no? quindi in qualche modo tutti questi elementi ci dicono che quello che poteva essere un percorso individuale viene presentato come un percorso esemplare in qualche modo no? come una storia che porta ad una realtà che ha un significato più ampio di quello legato appunto ad un percorso semplicemente individuale e cioè la nascita di una donna appunto di una donna che mette in crisi e discute nel testo un principio cardine del ruolo femminile e cioè la maternità allora voi dovete tenere presente che siamo nel 1906 su questo bisogna un pochino riflettere e anche oggi è un discorso complesso non solo nel 1906 io vi vi dico semplicemente quali sono le domande che lei ci fa e si fa nella parte finale di questo romanzo perché lei dice si chiede perché nella maternità adoriamo il sacrificio dice se la catena si spezzasse una buona volta e se la madre non sopprimesse in sé la donna e un figlio apprendesse dalla vita di lei un esempio di dignità allora vedete il discorso che fa lei sulla maternità è molto complesso non è un discorso diciamo di identificazione non è neanche un discorso di rifiuto del materno ma è un discorso che tende a ridefinire il rapporto della madre con il figlio e appunto tende a dire che non può essere un processo di identificazione di annullamento di identità quello dell'esercizio di questa funzione complessa che è appunto il materno questa sua posizione le apre un sacco di problemi anche con le donne di primo novecento cioè con le emancipazioniste a cui lei guarda con un estremo interesse e di cui fa parte e questo io voglio fermarmi un pochino perché è interessante torniamo alla storia del testo cioè il passaggio dalla prima alla seconda alla terza redazione che cosa fa Alleramo dopo aver scritto la prima redazione cioè una volta terminato la sua prima stesura nel 1903 manda in lettura il suo manoscritto alla Ersilia Maino che era una figura di grande riferimento per tutte le donne intellettuali e no ma anche le intellettuali di primo novecento e le dice e le scrive appunto una lettera in cui dice eccoti il manoscritto della mia storia fino a 16 mesi fa ed è e dice aggiunge qualcosa che per noi è interessante perché dice manca l'ultimo capitolo di poche pagine in cui dirò come arrivata a Roma mi confermai nella risoluzione di non tornare da mio marito come ho inutilmente lottato per ottenere mio figlio e come infine acquistai la certezza di poter vivere utilmente appoggiata all'amore del solo uomo cui tutto il mio essere ha consentito e che mi ha fatta sua per sempre allora l'altezza del 1903 come vedete lei pensa ad un testo molto più autobiografico di quello che leggiamo oggi e soprattutto ad un romanzo che aveva una fine diversa perché questo romanzo quello che leggiamo noi pubblicato finisce con lei che parte e sceglie la scrittura ma nel 3 lei alla maino dice guarda manca il capitolo finale quello in cui dirò appunto tutte queste cose e dirò metterò una fine che mi porta ad un altro rapporto che è quello con Cena con Giovanni Cena che nel frattempo c'è un passaggio divertente perché dal passaggio sappiamo che Cena l'aveva costretta a tagliare sempre in questa prima redazione un altro pezzetto di storia che era il suo amore con Felice Damiani perché in realtà era precedente all'incontro con Cena quindi preso dalla gelosia le fa cassare questo percorso precedente lei però lo racconta poi nel passaggio dopo che si è separata appunto anche da Cena ma ora torniamo appunto a questo passaggio perché che cosa le risponde la maino la maino le risponde con grandissima durezza e cioè le dice ma dice hai tu pensato che tuo figlio reggerà un tuo libro e ti giudicherà e poi continua dicendo dicendole che se lei ha pensato che questa materia potesse essere di interesse questo denudarsi in pubblico potesse essere di interesse per qualcuno che non fosse la sua stessa se stessa si sbagliava e soprattutto sacrificava diciamo a un'ambizione che era quella di diventare un'autrice e una scrittrice famosa quell'obbligo alla riservatezza che doveva accompagnare una figura femminile ma soprattutto la richiama al rapporto con il figlio e continua adesso non posso leggere tutte le lettere ma molto interessante che il discorso tra le due donne si sposta dal testo dal romanzo alla discussione sul femminile sul ruolo perché la Maino dice che appunto le dice la felicità questa è Silvia Maino la felicità che per noi che siamo madri sta nel formare la coscienza dei nostri figli nell'agire per purificare l'ambiente dove vivranno eccetera eccetera quindi la richiama alla funzione del materno le emancipazioniste non mettono in crisi questo principio lei aveva toccato un punto delicatissimo che riguardava la ridefinizione dell'identità femminile al di fuori dei ruoli non in contrasto con i ruoli ma al di fuori dei ruoli però lei tiene conto di queste osservazioni perché la terza redazione quella che noi leggiamo non ci racconta più la storia che finisce con un nuovo amore ma ci racconta appunto la storia di una rinascita attraverso la scrittura questo tratto diciamo nella storia del testo mi porta a dire qualcosa sul contesto di questo romanzo no? beh dal punto di vista diciamo storico letterario io quando spiego il primo novecento di miei studenti spiego che è un romanzo che si colloca appunto tra positivismo e decadentismo tra il fu Mattia Pascal di Pirandello e la coscienza di Zeno di Svevo ed è interessante vedere come si mescolino gli elementi di un clima comune e come si differenzino gli esiti tra tutti e tre gli autori naturalmente ma insomma c'è una specificità anche di questa ricerca di un'autrice rispetto alla ricerca dei due autori c'è per esempio un pezzo che io sempre cito perché tra umorismo e ironia si dispone a un commento che fa alle ramo su di sé e dice che per le donne sono messe troppo male per potersi consentire questa cifra rispetto al reale e quindi la dimensione tragica dice dipende dal è il segno diciamo della condizione reale in cui noi viviamo quindi non non mi appartiene dice questa cifra che consente di vedere il reale attraverso questa chiave che è data dall'umorismo quindi diciamo ci sono molti elementi su cui ci si può fermare sicuramente fa parte di un contesto letterario ben preciso che si confronta con quella che è la presenza delle autrici numerosissime nella letteratura italiana di questi anni cioè tra fino ottocento e primo novecento e cioè negli anni in cui esce appunto una donna noi abbiamo una presenza numerosissima di donne che scrivono e che pubblicano e che hanno anche un grosso peso nella storia culturale e vittoriale del nostro paese tutte tendenzialmente sparite dai quadri studiografici e questa è un'altra questione ma se dobbiamo dire quali sono le autrici coeve a questo romanzo questa autrice io vi dico soltanto che dovremmo distinguere tra due realtà Milano e Roma come per la storia della nostra cultura letteraria Milano come sapete è il centro dell'editoria e quindi è molto ricca di presenze femminili vi faccio solo qualche nome a Danegri a Maglia Guglielminetti la Marchesa Colombi la Contessa Lara Nera che è Anna Radius Zuccheri pseudonimo Nera che è una figura centrale proprio un personaggio amica di Capuana amica di Verga amica di Croce e figura di rilievo nella nascente nuova editoria ma poi c'è Roma Roma dove possiamo citare De Ledda dove possiamo citare Matilde Serau insomma abbiamo un contesto che vede numerose presenze femminili la storia qui si fa lunga perché queste autrici presentano dei caratteri ovviamente ognuno diverso dall'altro ma tendenzialmente legate ad una forma del letterario che assume quello della tradizione e lo assume in qualche modo secondo me un po' in ritardo Alleramo apparentemente esterna a questa dimensione anticipa e viceversa i tempi insomma tra tutte queste autrici quella che apre davvero al novecento è proprio Alleramo con una donna non lo è nera qui io capisco che è difficile fare questo ragionamento se non avete letto i romanzi ma insomma nera è un'autrice legata al clima diciamo milanese e lombardo ancora legata a alcune forme di naturalismo che lei adatta all'ottica femminile è autrice per esempio di un ciclo che lei chiama la la trilogia del femminile che è dedicato a tre figure di donna Teresa Lidia e Marta quindi adatta il modello letterario naturalistico veristico alla condizione delle donne di cui rappresenta anche tutta la contraddittorietà intendiamoci ma altra cosa della ricerca letteraria che sta e anche dalla prospettiva sul presente sul tempo che noi riscontriamo appunto in una donna che viceversa rinnova i contenuti ma rinnova anche la forma e cioè è oltre i ruoli ma è anche oltre il verismo e cioè si può collocare pienamente nel clima del decadentismo e quindi insomma in sintonia con quella ricerca letteraria che va verso il novecento che si stacca dall'ottocento chiuderei con una osservazione con una domanda e con una risposta e cioè che fine fanno queste donne perché spariscono e perché sparisce un romanzo con una donna perché poi vedremo quando riemerge ma insomma sicuramente sparisce per un lungo periodo e ancora oggi si fa fatica a immetterlo nella trasmissione didattica io ho studiato questa cosa studiando valutando le tendenze della della sistemazione della tradizione letteraria italiana all'interno dei filoni storiografici ho cercato di vedere come si formava e si trasmetteva la trasmissione voi sapete siamo all'inizio dell'Italia Unita si forma la tradizione letteraria italiana prima appunto non c'era adesso qui non facciamo tutta la storia del genere ma insomma dalle Santis a Croce ci sono dei passaggi importanti De Santis si scorda le donne ma Croce no Croce guarda con grande attenzione alle autrici del primo novecento e le guarda attraverso il suo ruolo di critico militante cioè lui dedica è lui che sulla critica fa le recensioni a queste autrici ed è lui che si inventa questa definizione che io amo pochissimo di letteratura femminile io parlo di letteratura di donne che scrivono letteratura femminile è un qualcosa che svela subito il senso lo sguardo la direzione dello sguardo e se la inventa Croce Croce parla di letteratura femminile e ce la definisce ce la descrive cioè dice che le donne proprio perché dominate da uno sguardo immanente sono legate ad una forma che è di per sé imprecisa non poetica quindi se il vizio della forma è un elemento che connota la letteratura femminile dove sta il valore? Il valore sta nei contenuti e quindi è il contenuto l'eticità del contenuto che definisce il valore della scrittura per lui la scrittrice che proporrà come modello attraverso operazioni di tipo editoriali italiana è di questa generazione è Nera Nera che difende appunto il principio che raccolta il dramma di essere di assumersi i ruoli ma che lo fa proprio insomma e che dice che bisogna mantenerlo questo ruolo con tutta la carica di dolore e di sofferenza che sopporta quindi capite bene un principio diciamo legato alla valutazione etica del contenuto spariscono naturalmente tantissime autrici tutte quelle che vengono dopo la generazione di Nera e di queste scrittrici di fine ottocento spariscono tutte le donne che perché negli anni 30-40 diciamo incominciano ad affermarsi la Banti la Vasino la De Sespedes incomincia a scrivere anche la primissima Ginzburg poi ci saranno la Morante altre importanti autrici che spariscono completamente perché il principio diciamo ed è Croce che lo definisce che pesa molto nella formazione della critica della storiografia italiana tenetelo presente questo che ci dà appunto questi principi per cui la storiografia è ancora molto incerta su come trattare le autrici nei quadri storiografici Aleramo era proprio fuori dal punto di vista etico lei che scrive un libro per dire che appunto la maternità va ridefinita perché deve conciliarsi con l'identità femminile nella sua pienezza non viene nemmeno nominata e guardate che nel 6 7 Croce scrive nei primi 15 anni del 900 questo testo aveva avuto un grandissimo successo non come testo letterario viene discusso per i suoi contenuti ma entra nel dibattito politico e culturale di questo primo novecento e viene tradotto quindi impossibile che non si vedesse non viene nemmeno nominato poi dell'assunto negli anni 30 fino agli anni 30 e 40 da Mondadori quindi ha una sua presenza in ambito letterario nel 50 da Feltrinelli ma riemerge prepotentemente con questa edizione che è un'edizione storicamente importante perché è quella del 73 quando cioè viene riproposta con una prefazione di Maria Antonietta Macciocchi a ridosso del neofeminismo e sì però questo è un dato storico fa parte della storia del testo ma ancora una volta viene come dire assunto in funzione di un discorso altro da quello letterario queste donne vogliono essere lette come autrici di letteratura non vogliono essere lette né come madri né come mogli né come emancipazioniste né come femministe c'è un'intera generazione di autrici del novecento che dice ma noi siamo degli autori perché se le autrici sono quelle che ci spiega Croce e cioè che trasmettono un modello sociale noi siamo al neutro facciamo letteratura e questa è la cosa più complicata perché effettivamente ci troviamo di fronte ad immaginari diversi perché diverse sono le esperienze dissonanti spesso rispetto al quadro storiografico alla ricerca letteraria coreva e bisogna avere la capacità di leggere e di interpretare naturalmente senza tagliar fuori il resto almeno io leggo tutti i testi anche quelli degli uomini riportandoli al contesto e quindi anche quelli delle donne ma abituandoci a leggerli in quanto testi letterari perché così sono stati scritti questa è l'ambizione e questa è la realtà di questi romanzi e chiudo dicendo che in questo senso veramente una donna prege difetti limiti e valori è sicuramente un romanzo molto importante della tradizione del nostro novecento è il romanzo che apre al novecento portandosi dietro la complessità di una firma femminile che esibisce la sua diversità e così dobbiamo imparare appunto ad interpretarlo a valutarlo a criticarlo e a contestualizzarlo grazie e ringraziamo la professoressa Zancan e il professore Gianni Curchetta la dataressa Miriam Trevisan poi ringraziamo moltissimo ringraziamo moltissimo tutti coloro che sono intervenuti in particolare scusate in particolare le voci recitanti Paola Giorgi e Francesca Rossi Brunori e ringraziamo il pubblico che è stato attentissimo e già fatto nonostante appunto le molte iniziative siete accorsi numerosi grazie grazie grazie